Allora Marco, la mia prima domanda è come è nata la tua startup Locals? Allora, praticamente circa un paio di anni fa lavoravo qui a Berlino e sono stato contattato da una ragazza americana che lavorava per Viable, che è una startup appunto americana, che fa una cosa molto simile a quella che stiamo sviluppando noi per l'Italia. Quindi già da allora mi era venuta l'idea di importare questa soluzione in Italia e adattarla ad uno che è un paese più turistico al mondo, uno dei paesi più turistici al mondo. Un anno fa, poi ovviamente questa cosa è rimasta un po' nel cassetto perché stavo facendo altro e quindi è rimasta lì. Un anno fa, sempre qui a Berlino, ho saputo di un altro progetto che ha iniziato a fare più o meno questa startup di viaggi, esperienze eccetera eccetera e allora mi sono praticamente deciso a riaprire quel cassetto e appunto tirare fuori la mia idea e iniziare a rielaborarla, ad adattarla al territorio italiano e anche appunto studiando quelli che potevano essere i problemi, le casistiche varie eccetera eccetera. Da lì appunto è nato Locals e ad oggi stiamo quasi in fase di lancio per cui direi che siamo sulla buona strada. Infatti mi potresti spiegare come funziona effettivamente per chi utilizza il tool? Sì, allora praticamente è un marketplace per le esperienze in Italia e all'estero. Ovviamente partiremo dall'Italia perché è la nostra nazione e come già detto prima è uno dei territori europei più turistici con più esperienze ecco e quindi da una parte ci saranno i viaggiatori che tramite la piattaforma verranno messi in contatto con le persone locali, esperti locali che li guideranno appunto in tutte quelle che sono delle esperienze che vanno al di là delle visite guidate da cartolina insomma. Nel momento in cui qualcuno effettivamente vuole fare un viaggio per esempio in Italia poi ha l'occasione di incontrare direttamente l'altra persona oppure in realtà è semplicemente uno scambio virtuale? No, assolutamente si incontrano di persona nel senso che online stiamo cercando di farlo in tre passaggi quindi il più rapido possibile si riesce a inserire la destinazione, cercare eventualmente delle macro categorie di interesse venire in contatto con le persone che offrono le varie esperienze, prenotare direttamente online pagare ovviamente direttamente online e poi una volta arrivati sul territorio incontrare queste persone che li portano, li guidano e condividono con loro le loro conoscenze. Chiarissimo, ci sono dei costi relativi all'utilizzo del servizio? Sì, allora appunto il portale tratterà una fee che abbiamo calcolato intorno al 10% divisa in 8 e 2% quindi l'8% verrà addebitato a chi prenota e mentre il 2% a chi offre servizio in modo tale che ci sia un giusto equilibrio tra le due cose, così che chi prenota ha delle sicurezze riguardo alla qualità del servizio, dei pagamenti e tutto quanto e dall'altra parte chi offre il servizio avrà praticamente quasi il 100% di quello che è il prezzo che stabilisce gli verrà addebitato poi direttamente tramite il sito e anche lui avrà appunto la sicurezza dei pagamenti online del cliente diciamo verificato tramite social media e queste cose e quindi si crea una community che è molto unita e verificata. Puoi spiegare nel dettaglio magari un po' della tecnologia che ci sta dietro? Sì, più o meno, nel senso che ovviamente io non mi occupo dello sviluppo però due cose sullo sviluppo verrà fatto ovviamente in Java che è una tecnologia abbastanza sicura, riporto le parole dei programmatori e ovviamente stiamo pensando già a una versione mobile quindi da subito, insomma subito dopo il lancio ci butteremo subito in quest'altra avventura o esperienza, ecco visto che parliamo di esperienze in modo tale da dare un servizio che sia a 360 gradi al cliente ovvero appunto la piattaforma sicura, testata, con dei feedback relativamente anche importanti e un'applicazione mobile, presumo un iOS inizialmente ma è tutto da definire per appunto dare la possibilità anche a chi arriva direttamente sul luogo di essere geolocalizzato e di trovare poi quello che più gli piace direttamente sul posto Qual è il vostro modello di business dunque? Beh, allora diciamo che praticamente come hai detto prima noi mettiamo in contatto i viaggiatori, io li definirei esploratori con appunto delle persone locali, degli esperti locali e in tutto il passaggio tra pagamenti e le varie cose noi tratteremo questa fee non mi viene la parola in italiano, scusa che appunto sarà il nostro revenue model e che sarà la base di tutto il modello insomma useremo quello che potrei dire il modello testato e che funziona che attualmente usa Airbnb Chiarissimo Potresti dirmi a quali, insomma da dove è venuta l'ispirazione a quali altre start up o altre attività vi siete ispirati eventualmente? Sì, beh, allora i nostri due più grandi competitors al momento sono Viable e Ghizzi Come ti dicevo appunto che è quello che ha dato là tutto e Ghizzi che poi è stato quello che ha consolidato la mia teoria Viable opera solamente sul territorio di opera a livello mondiale ma più che altro in America e Ghizzi anche loro sono basati a Berlino ma anche loro operano solo su grandi città Quello che noi vogliamo dare in più è il fatto di sviluppare un territorio quindi in questo caso l'Italia in tutte le sue particolarità in tutte le sue piccole località quindi un servizio a 360 gradi in modo che chi venga effettivamente a visitare l'Italia non sia, diciamo, perso tra le solite grandi città quindi Roma, Firenze e Venezia per citarne alcune Chiaro Quali sono gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Bella domanda Allora, innanzitutto come dicevo prima partiremo subito dal lancio con lo sviluppo dell'applicazione mobile che è un vantaggio per il momento che potremmo avere in quanto i nostri servizi che ho citato prima non offrono un servizio di geolocalizzazione mobile ovviamente creare una community importante non solo per gli online addicted ma anche per famiglie, backpackers coppie in viaggio di nozze quindi molto vasta da una parte e dall'altra creare una community importante di esperti locali che avranno appunto la possibilità di entrare in questo portale ed offrire quello per cui hanno studiato quindi direi che i tre obiettivi fondamentali sono quello di promuovere e far riscoprire il turismo nel nostro paese e appunto creando una piattaforma web e mobile che sia semplice da usare e alla portata di tutti ecco con dei costi relativamente contenuti a che punto siete in questo momento con il lancio della nuova piattaforma? Allora siamo quasi pronti nel senso che saremo online in circa un paio di settimane con una beta privata che diventerà poi beta pubblica nel giro di allora se sono due settimane tre settimane quindi nel giro della settimana dopo in modo tale da avere i primi feedback sul prodotto metto online e vedere come migliorarlo se migliorarlo e se ci sono di bug eccetera eccetera per cui direi che in 20 giorni dovremmo essere online con la prima beta privata Quanti utenti pensate di raccogliere nei primi sei mesi e magari nei primi 12 mesi? Il più possibile nel senso che per il momento c'è un'ottima risposta dal punto di vista degli esperti locali quindi attualmente non ho numeri alla mano però grosso modo posso dire che abbiamo dovessimo iniziare domani con tutta Italia potremmo avere già 100 esperti locali disposti ad offrire le loro esperienze dal punto di vista invece dei viaggiatori ovviamente i numeri sono al momento un po' maggiori nel senso che abbiamo dalla nostra il fatto di essere a Berlino in questo momento per cui siamo a contatto con una comunità molto internazionale e quindi abbiamo la possibilità di rivolgerci a più persone di diversi luoghi per cui a parte i quasi 500 fan della nostra pagina Facebook direi che siamo già sulle 600 probabili utenze ecco per appunto i prossimi mesi speriamo di raddoppiare anche perché no triplicare i numeri però poi vediamo anche come sarà la risposta nel momento in cui il sito sarà online bene un'ultimissima domanda a quanto ammonta in media il compenso diciamo per l'esperto locale allora noi abbiamo calcolato una tassa un costo medio diciamo di 40 euro ovviamente poi ci sono da meno quindi potrebbero esserci ipoteticamente dei jogging tra i monumenti che potrebbe costare dai 10 ai 15 euro a persona oppure qualcosa di un po' più costoso che potrebbe essere un giro in elicottero piuttosto che che ovviamente ha dei costi più elevati siamo sulle 120 150 euro dipende anche dal tipo di mercato poi che verrà sviluppato di più però un costo medio di una transazione è stato calcolato sui 40 euro chiarissimo va benissimo Marco io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità grazie a te grazie a te